Il suo 45 giri no, portatelo fuori, portatelo fuori Ecco questa, è arrivato anche Leo Bassi, lo ricordate il nostro alzatore d'audience Signor Bassi grazie di essere intervenuto, un saluto e vada via Signor Bassi, un saluto e vada via, alzatore d'audience Don Patricio, ecco il risultato del mio lavoro, l'indice da scopo che sta crescendo, crescendo, crescendo Sì ecco però mi sembra che il grafico vada a letto piuttosto così ed è un vero disastro La nostra audience è... Il pianoforte! No, il pianoforte no! Sì, il pianoforte! No, il pianoforte no! Il pianoforte! No, il pianoforte no! No, il pianoforte... Signor Orea Maglià, lasci stare, questi colorini non vanno bene per me Il pianoforte no! Signor Leo, no! No, il pianoforte no! Mi scusi, signor Andy, doveva essere il suo numero! Leo Bassi! È uno strano modo di suonare il pianoforte! Signor, io vorrei chiudere, signori! Eh, sì? No, no, senti, è arrivata la sigla! C'è la sigla! Come la sigla? È arrivata la sigla! È arrivata la sigla! Abbiamo la sigla! La sigla praticamente... È pronta! La nostra sigla è in pratica un viaggio d'addio, un viaggio d'addio! Però io, signor, vorrei... Ciclismo, è meglio il calcio, è meglio il qui! È meglio il qui! Avere la mezzo P!